buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione con le gare del campionato spagnolo ma prima prima è giusto farla vedere perché un po che non la faccio vedere la magliettina del gigione della settimana e detto questo possiamo partire si parte alle 19 con cadice almeria partita interessante il cadice favorito ma non troppo qua mettiamo un bello uno is che così andiamo sul sicuro e problemi non ce ne sono granada maggiorca partita da aiuto arriva il lupo e qui vado di 1 2 ragazzi qua mi arrischio l'12 mentre invece a Siviglia Girona perché a Siviglia mi sa che anche quest'anno non in coppa magari farà benissimo o almeno in cemmio vedremo in che girone finirà eccetera tenete conto ha vinto l'ennesima europa lì loro sono abbonati all'europa league oramai la squadra che magari arriva a dodicesima tredicesima in campionato gioca all'europa league e la vince adesso sono in champions avendo vinto l'europa league vedremo in che girone finiranno vedremo se termineranno magari al terzo posto per andare a giocare ancora all'europa league e andare a vincerla per l'ennesima volta però in campionato non vorrei che facciano come l'anno scorso in cui sono rimasti per quasi tutto il campionato nei bassi fondi della classifica addirittura rischio ma detto cessione a differenza del betis che invece si è giocata la zona e le zone lecimissime per intenderci quindi qui metto un bel 1 x perché la quota me lo consente 2,05 l'uno poi se dovrete essere coraggiosi cagici almeria 1 e siviglia girona 1 andreste a vincere quasi cinque volte la posta quattro volte e mezza dai diciamo così proseguiamo con le gare di domani villareal barcellona x2 non penso che il villareal batta al barcellona ma non do nemmeno per scontata la vittoria dei blaugrana in casa del sottomarino giallo quindi vado di x2 valencia osasugna l'osasugna è squadra lo sapete il mio amore e odio per questa squadra perché ne combina di ogni quindi qui vado di 1 x perché non me la sento di mettere l'uno fisso al valencia atleti bilbao betis siviglia il bilbao è chiaramente favorito ma non sottovaluterà il betis quindi qui vado di 1 x e attenzione alla sorpresa anche se la vittoria del betis è data addirittura a 4 ghetafe contro il neopromosso alaves 1 x anzi 1 2 qui perché attenzione alla sorpresa alaves poi magari perde e concludiamo con raio vallecano atletico madride qui voglio rischiare qui rischio il 2 sarà dura ma rischio il 2 data 1 e 95 proseguiamo ragasoli con la scandina alternativa abbiamo notato che in spagna si segna più a poco ma io voglio essere ottimista quindi parto subito con un bel calice almeria gol data 1 e 80 granada maggiorca qua ragazzi miei sono sbruciacchiato vediamo un attimino se si può se si può le se vado di over 1 e mezzo data 1 e 55 Siviglia Girona Siviglia Girona qua mi sento un over 2 e mezzo data 1 e 87 sono tutte molto a rischio perché in spagna almeno in queste prime giornate di campionato si segna un po' pochino non stanno esagerando soprattutto negli anticipi del venerdì poi magari Villa Real Barcellona qua mi arrischio un bel gol dato a 1 e 55 Valencia Osasugna anche qui mi arrischio un gol dato a 1 e 90 si rischia chi non risica non rosica diceva il topo Gigio e io essendo un Gigio faccio il topo e quindi risico non il gioco ma rischio Atleti Bilbao Real Betis anche qui metto un bel gol dato a 1 e 75 che mi fa libidine Getafe Alaves qua faccio il rischione over 2 e mezzo dato a 3 pazzia pazzia perché questi figurati si segnano però non si sa mai magari fanno alla fine del primo tempo già 2 a 2 roba pazzesca 1 a 1 Raio Vallecano Atletico Madrid over 2 e mezzo dato a 2 e 0 5 anche questo è bello a rischiatello perché l'Atletico è altra squadra 1 a 0 2 a 0 non sprechiamoci non facciamone troppi teniamoli per tutte le altre partite perché se ne facciamo tre poi dopo l'altra ne facciamo uno solo e magari non vinciamo invece due gol a partita la porti a casa niente ragazzoni queste sono le mie proposte per il campionato spagnolo in cui si segna poco ma io voglio essere ottimista lo stesso l'ottimismo diceva quello là poi gli arrivò la cagata di uccello in testa e tiro giù un po' di paroline poco simpatiche ragazzoni sono stato super super califragilistica e spiralitoso no sono stato rapido almeno non mi dite ma sei prolisso fai video troppo lunghi e questo e quell'altro velocissimo velocissimo c'era il velatissimo c'è il velocissimo stavolta sono stato velocissimo sette minuti di video per il campionato spagnolo che spero regali un po' di gioie perché sinceramente è l'unico campionato in cui fanno fatica a fare un po' di goal a esagerare con i goal poi magari mi sbaglio adesso parte le prime due partite 0 a 0 0 1 negli altri 8 minimo tre gol a partita spettacolo campionato spagnolo spettacolare vedremo ragazzoni vi saluto vi ringrazio e vado ad apprestarmi a fare anche il campionato francese su stato rapido su stato rapido ciao